Immagina come ti fa sentire prenderti cura di tua figlia. Ora, immagina poterlo fare per migliaia di persone. Firma per l'Otto per Mille alla Chiesa Cattolica. Darai cura e riparo agli invisibili della nostra società. Dalla redazione di Internazionale, io sono Claudio Rossi Marcelli. Io sono Giulia Zoli e questo è Il Mondo, il podcast quotidiano di Internazionale. Oggi vi parleremo della diplomazia del Vietnam e del Venezuela, e poi di elefanti e di un libro. È lunedì 24 giugno 2024. Il 20 giugno il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in Vietnam per incontrare il presidente Toh Sam e allentare l'isolamento diplomatico di Mosca dopo l'invasione dell'Ucraina. Questa è la prima visita di Putin nel paese dal 2017 e la quinta in totale. Quella che avete sentito era la voce di Nguyen Dat Phat, il vice direttore dell'Associazione per l'amicizia tra Vietnam e Russia, che ricorda il contributo fondamentale dell'Unione Sovietica per la liberazione del Sud durante la guerra con gli Stati Uniti. La Russia è ancora un partner molto importante per il Vietnam e il suo principale fornitore di armi. Ma Hanoi sta diversificando i suoi rapporti economici e diplomatici, avvicinandosi anche agli Stati Uniti. Ne parliamo con Giunco Terao, editor di Asia ed internazionale. Il 20 giugno il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Hanoi in visita ufficiale. I due paesi, come dicevi, hanno dei rapporti basati soprattutto sulla difesa e sul commercio di armi. Essendo la Russia il primo fornitore di armi del Vietnam, anche in questa occasione i leader dei due paesi si sono ripromessi di rafforzare la cooperazione in campo strategico e nel campo della difesa. Putin arrivava direttamente da Pyongyang, dalla Corea del Nord, dove aveva incontrato il leader nordcoreano Kim Jong-un e con cui avevano stretto un patto, un'alleanza strategica oltre che economica. Il presidente russo sta proseguendo il suo viaggio nei pochi paesi amici in questo momento di isolamento a livello internazionale. Sì, nei giorni scorsi abbiamo parlato proprio della visita di Putin in Corea del Nord, indicandola come un tentativo di rafforzare i rapporti tra due paesi attualmente molto isolati a livello internazionale. Anche il Vietnam è un paese diplomaticamente isolato? Assolutamente no. Il fatto che la visita di Putin sia stata preceduta negli ultimi nove mesi dalle visite rispettivamente del presidente statunitense Joe Biden e del cinese Xi Jinping riassume benissimo la posizione da equilibrista che Hanoi sta mantenendo ormai da anni. La politica estera vietnamica si basa sul multilateralismo e Hanoi cerca di mantenere buoni rapporti adottando un certo grado di flessibilità pur mantenendosi saldo e compatto alla base come un cespuglio di bambù. L'espressione della diplomazia del bambù era già stata usata in riferimento al regno del Siam, la Thailandia di oggi, che si doveva destreggiare tra l'impero coloniale britannico e quello francese. E in un discorso del 2021 il presidente vietnamita, Nguyen Phu Trong, l'ha ricitata e l'ha riportata in voga. In materia di dottrina militare, la posizione vietnamita si basa su quattro no. No a una qualsiasi alleanza militare formale, no a ospitare basi o attività militari stranieri sul suo suolo, no a schierarsi con un paese contro un altro paese e infine no all'uso della forza nelle relazioni internazionali. In realtà poi a noi si riserva la possibilità di sviluppare le relazioni militari necessarie con altri stati a seconda delle circostanze, però di base la posizione del Vietnam è appunto da equilibrista ed cerca di mantenere l'equidistanza tra le varie potenze. In particolare cerca di mantenere buoni rapporti sia con gli Stati Uniti sia con la Cina, che sono le due potenze che in questo momento sono in competizione nella regione dell'Asia Pacifico e che cercano di esercitare la propria influenza corteggiando i paesi dell'area. Con Pechino il Vietnam ha un'affinità ideologica, essendo uno Stato comunista partito unico e anche culturale e infatti segue la Cina nei suoi metodi autoritari di governo e anche se allo stesso tempo bada ai suoi interessi in modo pragmatico. Il segretario del Partito Comunista vietnamita e il numero uno del regime, appunto Nguyen Phu Trong, è stato il primo leader straniero a far visita a Xi Jinping nel 2022 dopo la sua rielezione a capo del Partito Comunista cinese. Ma allo stesso tempo, come ricordavo un articolo di Le Monde che abbiamo pubblicato esattamente un anno fa e appunto sulla diplomazia del bambù, Hanoi per esempio ha tenuto fuori la Huawei, cioè la compagnia di telecomunicazioni cinese, dal programma del 5G, come hanno fatto esattamente molti paesi occidentali e in generale agli alleati degli Stati Uniti. per dire come Hanoi tenga conto, bada in modo pragmatico ai suoi interessi. Il Vietnam è anche tra i paesi interessati dalle rivendicazioni di Pechino e il mar cinese meridionale e in questo senso gli Stati Uniti offrono il loro appoggio a Hanoi, chiaramente da parte di Washington per i propri interessi. Questo appunto per far capire come Hanoi riesca, cioè si sia finora barcamenata tra appunto vari paesi, riuscendo a mantenere dei buoni rapporti con tutti e finora appunto ce l'ha fatta con notevole successo. In quest'ottica di buoni rapporti con molti altri paesi, la visita di Putin ha creato qualche conseguenza al Vietnam, soprattutto nei rapporti con Washington? In realtà no, Washington chiaramente ha espresso disappunto, ma sul lungo periodo ormai è chiaro che per gli Stati Uniti il Vietnam, pur essendo un paese governato da un regime comunista, autoritario e quindi non fa parte della sfera dei paesi democratici, Washington comunque lo ritiene un partner che rispetta le regole del sistema internazionale di cui fa parte e quindi affidabile in questo senso. I rapporti con Washington si sono intensificati soprattutto durante la pandemia, perché allora il Vietnam si era trovato in difficoltà, aveva applicato lo stesso tipo di strategia rigida zero covid in stile cinese, chiudendo tutto, ma non era bastato e solo l'intervento dei vaccini statunitensi è stato cruciale per permettere al paese di riaprirsi rapidamente, permettendosi quindi di ricevere solo una razione simbolica di vaccini che Pechino distribuiva in quel periodo tra i paesi del sud-est asiatico. Per cui anche in quell'occasione ha dimostrato una capacità di equilibrismo notevole e rafforzando in quel caso i rapporti con gli Stati Uniti. E questa sua equidistanza politica dalle grandi potenze internazionali dal punto di vista economico che effetti ha avuto? Dal punto di vista economico è stata decisiva ed è un successo totale insomma, perché il Vietnam sta vivendo un boom economico con un tasso di crescita che nel 2022 era stato dell'8%, poi si è un po' arrestata ma per congiunture internazionali e comunque continua a rimanere alta. Soprattutto negli ultimi anni il Vietnam è diventato il paese d'elezione per le aziende internazionali che finora negli ultimi decenni avevano delocalizzato in Cina ma che dato l'aumento soprattutto dei costi della mando d'opera cinese ora si stanno spostando e hanno scelto il Vietnam come paese d'elezione. Per esempio la sudcoreana Samsung ha fatto del Vietnam il suo centro di produzione mondiale rendendo quindi il paese il secondo esportatore di smartphone al mondo dopo la Cina. Il Vietnam ha goduto anche indirettamente della guerra dei Dazi mossa dagli Stati Uniti alla Cina per esempio diventando la metà preferita di aziende oltre che sudcoreane anche giapponesi di Taiwan e di Singapore. All'attivo ha 15 trattati di libero scambio di cui uno con l'Unione Europea. Qual è invece esattamente la situazione della politica interna del Vietnam? Che forma di governo c'è? Dunque il Vietnam come dicevo è uno stato monopartitico comunista molto vicino ideologicamente alla Cina ideologicamente e anche nei metodi di governo. Il Vietnam adesso si trova di fronte al dilemma di come permettere alla popolazione di arricchirsi adottare uno stile di vita occidentale senza però che questo porti con sé delle contestazioni sul modello delle rivoluzioni colorate in questo guarda la Cina guarda l'esempio della Cina perché la Cina è l'unico paese comunista che ha fatto questo che si è aperto all'economia di mercato ed è riuscita più o meno finora a mantenere il regime intatto il Vietnam quindi segue l'esempio di Pechino e governa con il pugno di ferro soprattutto contro gli attivisti filodemocratici chiaramente contro chi si batte per i diritti umani la cronaca è piena di casi di attivisti che scompaiono o vengono condannati per la loro attività nel 2016 come fece già Xi Jinping il Vietnam ha avviato una campagna anticorruzione facendo così piazza pulita di avversari politici o presunti tali nella classe dirigente e questa questa campagna sta continuando e nell'ultimo anno abbiamo visto dimettersi cadere diversi esponenti delle istituzioni vietnamite tra cui due presidenti il presidente del Parlamento l'unica donna che faceva parte del politburo del partito comunista vietnamita insomma il Vietnam sta vivendo delle turbulenze politiche interne nonostante questo il partito rimane saldo al potere e il successo economico diplomatico del paese non ne risentiranno grazie a Giunco Terau grazie a voi la notizia di scienza della settimana raccontata da Elena Boille vice direttrice di Internazionale sappiamo da tempo che gli elefanti hanno una struttura sociale complessa organizzata in gruppi di femmine e cuccioli che fanno capo a una matriarca mentre i maschi adulti sono in genere solitari sappiamo anche che hanno una vasta gamma di comportamenti spesso flessibili cioè che possono avere significati diversi a seconda dei contesti un colpo di coda per esempio se dato con forza può voler dire mantieni le distanze mentre se fatto da una madre che si rivolge alla prole è più un c6 piccolo ora come racconta l'articolo di New Scientist che pubblichiamo questa settimana grazie a un software basato sull'apprendimento automatico alcuni ricercatori hanno anche capito che gli elefanti potrebbero essere gli unici animali oltre agli umani a chiamarsi per nome o meglio a usare suoni specifici per chiamarsi quando i ricercatori hanno fatto ascoltare certi barriti ad alcuni individui hanno visto che reagivano in modo più marcato degli altri esemplari ecco un esempio del richiamo e della risposta è stato già dimostrato che i delfini e molte specie di uccelli possono chiamare singoli individui ma lo fanno imitando nel verso anche gli elefanti sanno imitare i suoni ma sembra proprio che almeno per chiamare alcuni esemplari usino come nomi dei suoni arbitrari come facciamo noi la honrosa designazione di mi persona come candidato presidenzial di tutti che vogliono un cambio in nostro paese è una responsabilità che ho con humildad è una decisione che non esperava hace unos giorni per questo mi tome questo tempo per inviare questo messaggio era la voce di Edmundo González Urrutia il candidato della piattaforma unitaria democratica dell'opposizione venezuelana alle elezioni presidenziali del 28 luglio sarà lui a sfidare l'attuale presidente Nicolás Maduro del Partito Socialista Unito del Venezuela che si candida per un terzo mandato consecutivo la leader dell'opposizione Maria Corina Maciado non ha potuto candidarsi in seguito a una sentenza molto contestata che le ha vietato di ricoprire incarichi pubblici per 15 anni nonostante le promesse del governo per garantire elezioni libere e democratiche nel paese ci sono stati arresti e intimidazioni di attivisti dell'opposizione e giornalisti ne parliamo con Stefano Pozzébon giornalista che vive a Bogotà in Colombia e segue l'America Latina per la CNN è interessantissimo vedere e seguire quello che sta succedendo in Venezuela penso perché erano davvero diversi anni che l'opposizione non aveva una strategia coerente di cambio di governo con delle reali possibilità di vittoria quindi forse possiamo forse avvicinarci a una pagina molto importante della storia dell'America Latina vediamo cosa succede il mese prossimo ricordiamo come si è arrivati alla scelta di questo candidato è stato un percorso lungo il nome di Gonzales Surruti è arrivato dopo un processo estremamente lungo erano anni che si sapeva che il Venezuela sarebbe dovuto andare alle elezioni nel 2024 ci sono stati intensi e lunghi negoziati mediate anche da paesi diversissimi c'è stato un incontro a Doha in Qatar c'è stato la Norvegia ha avuto un ruolo preponderante per cercare di trovare un accordo che è stato firmato a fine dell'anno scorso in Barbados tra il governo di Maduro l'opposizione e gli Stati Uniti in cui il governo si è impegnato ad avere delle elezioni libere e democratiche gli Stati Uniti hanno promesso la sospensione di diverse sanzioni commerciali l'opposizione ha cercato di proporre un candidato unitario a questo accordo è seguito un processo di primarie in cui la coalizione dei diversi partiti dell'opposizione democratica in Venezuela ha selezionato come vincitrice con stragrande maggioranza un 90% dei voti a Maria Corina Maciado Maciado è una politica che avrà passato almeno 15 anni facendo politica in prima linea in Venezuela è una delle poche politici venezuelani che si definisce apertamente di destra a causa dell'eredità di Hugo Chavez dell'esperienza che è stata alciavismo in quel paese è difficile trovare qualcuno che si dica apertamente conservatrice di destra mentre lei una volta mi ricordo l'avevamo intervistata diceva che voleva ispirarsi a Margaret Thatcher come figura politica a causa di una sentenza della Corte Suprema di diversi anni fa è una sentenza che è stata contestata da diversi osservatori internazionali però che rimane ovviamente presente a Maria Corina Machado viene impedito di candidarsi alle elezioni lei ha appunto questa sentenza che le vieta a ricoprire incarichi pubblici quindi la coalizione oppositora per circa 48 ore ha scelto una seconda candidata che era questa Corina Ioris una professoressa di filosofia mi pare dell'Università Centrale del Venezuela anche lei senza molte spiegazioni ha ricevuto un ordine che le impediva di essere candidata da parte della commissione elettorale non proprio motivata però è davvero stata una cosa di un fine settimana noi cercavamo di fare un'intervista con lei senza neanche arrivare all'intervista era già arrivato il divieto per lei di correre e quindi è stato scelto il nome di Gonzale Surrutia Gonzale Surrutia è stato un candidato essenzialmente per caso lui era lì perché era stato segretario intorno al 2013 2014 di un ombrello che sembrava raggruppare la maggior parte dei partiti dell'opposizione perché la scelta è caduta proprio su Gonzale Surrutia Gonzale Surrutia non è un politico è un diplomatico ha passato decenni nel servizio diplomatico venezuelano prima di dedicarsi all'opposizione non ha mai fatto politica non ha mai fatto strada non ha mai fatto comizi né niente però è molto interessante perché rispetto a Maria Corina Maciado che è una politica dichiaratamente di destra estremamente tossica per il ciavismo Gonzale Surrutia essendo un diplomatico essendo una persona estremamente più moderata essendo anche uno sconosciuto sta cercando di montare una campagna dedicata alla possibilità di organizzare una transizione democratica una transizione che garantisca un ruolo futuro per il ciavismo un incontro nazionale e un accordo nazionale come hai detto governo e opposizione si erano accordati per garantire lo svolgimento di elezioni democratiche e trasparenti a un mese dal voto com'è il clima cosa ti aspetti io penso che la base del voto dell'opposizione prevalga un grande scetticismo perché comunque sono 25 anni che il ciavismo vince elezioni in un modo o nell'altro che comunque il governo non cambia quindi diciamo che ci si aspetta sempre che o Gonzales Urrutia sia squalificato o che il governo in qualche modo riesca a cooptare questa elezione per il 28 di luglio allo stesso tempo c'è moltissimo interesse da parte di analisti osservatori ma anche persone che sono interessate al Venezuela perché potrebbe davvero aprirsi una fase di transizione una transizione moderata una transizione democratica uno dei grandi esempi che viene spesso portato è il Cile in cui si diceva un mese prima del plebiscito nessuno pensava che Pinochet se ne andasse e invece poi il regime di Pinochet è caduto in questi casi direi che sì c'è molto scetticismo ma forse la speranza rimane il governo sta usando potremmo dire il bastone e la carota nel senso che all'interno del Venezuela ci sono stati diversi arresti intimidazioni anche solo questa settimana due giornalisti sono stati arrestati nello stato del Tacira mentre invece all'estero il governo sta cercando di dimostrare le sue garanzie per un'elezione democratica e libera ad esempio grande notizia ha fatto il fatto che il governo avesse ritirato l'invito per l'Unione Europea gli osservatori elettorali dell'Unione Europea per andare a Caracas a monitorare a osservare lo svolgimento delle elezioni è vero che il governo ha ritirato quell'invito all'Unione Europea però ha confermato l'invito questa settimana c'è stato l'annuncio ufficiale al Centro Carter il Centro Carter è una fondazione dell'ex presidente statunitense Jimmy Carter che fa osservatorio elettorale in diversi paesi dell'America Latina e viene normalmente considerato un osservatore abbastanza imparziale o comunque rispettato quindi la presenza del Centro Carter la presenza di tanto interesse della comunità internazionale è una novità per il Venezuela io ricordo nel 2018 quando c'è stata l'ultima elezione presidenziale non era così il presidente Maduro l'erede di Hugo Chavez che guida il Venezuela dal 2013 cerca un terzo mandato ma come è cambiato in questi anni il paese e soprattutto come sta l'economia venezuelana io penso che il paese sia cambiato drasticamente rispetto agli anni di Chavez in cui il governo era una cassaforte aperta e aveva una disponibilità economica eccezionale grazie ai petrodollari si parla degli anni della guerra in Iraq quindi con il petrolio oltre 130 dollari al barile quindi il governo di Chavez aveva una disponibilità economica che non esisteva in nessun'altra epoca del Venezuela il governo di Maduro invece ha essenzialmente rinnegato molti dei principi se vogliamo chiamarli socialisti di sinistra però a livello economico quello che stiamo vedendo adesso in Venezuela è un liberalismo estremo in cui c'è stata una enorme svendita degli assetti delle proprietà pubbliche dei beni pubblici a diverse imprese private e a livello generale il Venezuela può essere descritto adesso come un paese povero in cui esistono sacche di ricchezza privilegiate grazie a contratti con il governo grazie a imprese private che comunque continuano a fare affari in Venezuela è forse magari più simile al Vietnam ad esempio o alla Cina di questi ultimi anni rispetto a quello che potesse essere l'ideale che ne so cubano di un socialismo del XX secolo in cui i beni di produzione fossero davvero condivisi con le masse o con il popolo il salario minimo venezuelano rimane sotto i 10 dollari al mese però comunque c'è appunto queste sacche di ricchezza il governo si mantiene al potere grazie appunto al fatto che grazie al petrolio comunque controlla più del 90% dell'economia venezuelana più del 90% del prodotto interno lordo dipende dal petrolio e il petrolio è nazionalizzato è pubblico quindi è nelle mani del governo diciamo che uno dei motivi per cui si sente meno parlare di venezuela è che c'è meno la sensazione di emergenza non è una crisi non è un una economia impicchiata è un'economia che si sta stabilizzando in un contesto di povertà estrema per milioni di venezuelani con poche piccole sacche di ricchezza tu stai per tornare in venezuela per seguire le ultime settimane della campagna elettorale e le elezioni com'è fare il giornalista in venezuela? penso che la principale distinzione da fare è se sei un cittadino venezuelano lavorando per un giornale venezuelano o se sei un cittadino straniero ovviamente il fatto di essere un cittadino straniero europeo aiuta moltissimo il governo sta concedendo più visti rispetto agli anni precedenti io non ho bisogno di visti perché ho una residenza in venezuela quindi posso appunto entrare e uscire come meglio credo però ovviamente la situazione è estremamente diversa per i giornalisti locali per i giornalisti venezuelani in cui la censura comunque rimane nei media venezuelani si è sempre abbastanza ai ferricorti con i censori del governo soprattutto la radio è forse il medio più il mezzo di trasmissione il mass media più toccato da quel fenomeno oltre appunto al fatto di una situazione di povertà estrema e di economicamente difficile riuscire a fare il giornalista per me ogni volta che ritorno penso che sia una grande sfida cercare di raccontare quel paese che amo tantissimo mi piace tantissimo una sfida anche perché ovviamente è difficile per me trovare un governo che si dice progressista di sinistra o di un certo tipo di taglio politico e invece poi fa l'esatto contrario quindi forse la sfida principale per me come reporter straniero non è tanto la sicurezza o altro che magari è quello che più tocca i colleghi locali è quanto riuscire a discernere la realtà dalla retorica governativa che forse è anche l'aspetto che mi affascina di più sicuramente è un momento molto interessante per cercare di raccontare questa storia sono molto emozionato per poter tornare a Caracas e vediamo cosa succede a fine mese grazie a Stefano Pozzébon grazie a voi il libro della settimana consigliato da Stefania Mascetti editor di Europa di Internazionale tutte le parole hanno una storia ma alcune storie sono più interessanti delle altre e questo è il caso dell'aggettivo afascista spiegano Nadia Urbinati e Gabriele Pedullà nel libro Democrazia afascista il termine appare fin dal 1924 nei discorsi di Mussolini in una prima fase indica coloro che non sono né fascisti né antifascisti sono neutrali equidistanti magari addirittura disinteressati alla politica poi negli anni diventa quasi un sinonimo di disfattismo nel dopoguerra però il termine comincia a essere usato da alcuni politici intellettuali di destra secondo loro l'antifascismo è solo un'operazione retorica e divisiva la nuova Italia doveva essere afascista il fascismo appartiene al mondo di ieri è il modo migliore per seppellirlo e non menzionarlo più neanche nella Costituzione l'operazione non riuscì grazie ai lavori dell'Assemblea Costituente che rivendicò i valori antifascisti della futura carta il libro compie efficacemente un parallelo con la lettera scritta da Giorgia Meloni il 25 aprile 2023 al Corriere della Sera un vero e proprio manifesto politico personale e del suo governo nel suo non volersi definire antifascista Meloni rivendica un diritto all'oblio che stravolge il progetto politico su cui si basa la repubblica nata dalla resistenza democrazia afascista di Nadia Urbinati e Gabriele Pedullà Feltrinelli dalla redazione di Internazionale per oggi è tutto scriveteci a podcastchiocciolainternazionale.it o mandate un messaggio vocale al numero che trovate nella descrizione del podcast e dell'episodio e per ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio iscrivetevi al podcast l'appuntamento con il mondo è domattina alle 6.30 iscrivetevi al nostro canale e revisione a cura di QTSS e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti